...di ringraziamento naturalmente per essere stato invitato oggi a questo importante appuntamento perché 60 anni è un grande perquanto e soprattutto è così importante come nei confronti della CISP a questo poi devo aggiungere che il modo giornalmente di incontrare i sindacati i sindacati naturalmente della provincia di Piemona e ha avuto modo di apprezzarne in più occasioni naturalmente la grande professionalità le grandi capacità che hanno di saper affrontare nel prodotto i problemi e di raggiungere soprattutto i risultati prima si diceva anche con il Presidente della Camera di Commercio che quest'estate era stato ceglato un importantissimo accordo tra l'alimentare naturalmente da lui rappresentato e di sindacati e alla fine si era giunti a dire che tutti avevano avuto una vittoria questo secondo me è un passo straordinario perché un tempo c'era sempre qualche gruppo che doveva aiutarsi e che doveva dire che aveva perso invece in questa occasione è stato detto che tutti avevano vinto qualche cosa e quindi grandissimo risultato c'è un'altra piccola raffinazione per la relativa al logo che ho apprezzato moltissimo perché è succedendo la bandiera italiana ed è stata anche molto bella rappresentata quindi a maggior ragione ancora un grande augurio per questo importante traguardo raggiunto e ogni migliore successo per il mondo grazie